Buonasera, buonasera carissimi telespettatori e telespettatrici del TC Consapevole, senza perdere tempo diamo la linea al primo servizio della serata. ONU, Trump, se la Corea del Nord attacca l'unica scelta è distruggerla, metterò sempre gli Stati Uniti al primo posto. Gli Stati Uniti che vogliono essere un esempio per tutti. Io difenderò sempre gli interessi americani, ha continuato. Noi non vogliamo imporre il nostro stile di vita, ha precisato, per ricordare poi come gli americani abbiano sempre pagato il prezzo più alto per difendere la libertà anche di altri paesi. Ora, alle volte, quando si ascoltano dichiarazioni di protagonisti della politica nazionale, ma in questo caso internazionale, non si capisce se sia dinnanzi ad uno scherzo o ad una dichiarazione seria. Ora, lasciamo perdere la Corea, la questione complessa della Corea del Nord, ma affermare che gli Stati Uniti d'America sono sempre intervenuti in questioni internazionali, hanno fatto guerre, eccetera, hanno sempre fatto in nome della libertà, in nome della democrazia, per fare del bene agli altri, ecco, è quantomeno indecente. Chiaramente non bisogna neanche cedere in senso opposto, bisogna negare che ciò qualche volta non sia avvenuto, ma sicuramente ciò non è la costanza degli interventi che hanno visto gli Stati Uniti d'America come protagonisti. Gli interessi a volte sono stati palesi e nessuno può smentirli. Per esempio, nel caso dell'Iraq, la guerra in Iraq è stata fatta per via di una fake news di Stato, in questo caso, ovvero che Saddam Hussein nascondeva armi di distruzione di massa. Ecco, quello è stato un esempio di fake news ufficiale, diffusa da uno Stato. Esistono le fake news che dilaggano su internet, però non dimentichiamoci che nella storia, anche recente, ogni tanto circolano fake news di Stato e quella fu abbastanza grossa. Luigi Di Maio bacia la teca del sangue di San Gennaro, bacia la teca con le reliqui del Santo. Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera e candidato alla presidenza del Consiglio per il Movimento 5 Stelle, non si sottrae al rito e quando il cardinale Crescenzo Seppe gli porge l'ampolla che contiene il sangue di San Gennaro, Di Maio la bacia in segno di devozione. E lui poi parla di forte emozione nell'essere presente per la prima volta alla celebrazione della festa di San Gennaro, patrono della città e della Campania. Ora, in una democrazia la libertà di culto deve essere assolutamente garantita, libertà di credere a quello che si vuole, anche libertà di credere alle superstizioni, alle sciocchezze, alle credenze irrazionali. Però, se il leader di uno dei più importanti partiti, come il Movimento 5 Stelle, si mette ad adorare il sangue di un presunto santo, siamo veramente al degrado più assoluto. Almeno abbiamo, cerchiamo di avere la decenza di non definire quest'epoca moderna. Siamo nel tardo medioevo ancora, o se preferite siamo in un tecnologico medioevo. L'AMPI, l'associazione nazionale partigiani italiani, nega la targa alla bimba stuprata. Era fascista. L'AMPI contro il comune del Savonese che commemorava Giuseppina Gersi, uccisa a 13 anni alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Così l'AMPI scrive in un comunicato. L'AMPI ribadisce la propria contrarietà al progetto dell'amministrazione comunale di Noli di erigere un cippo in memoria della brigatista nera Giuseppina Gersi. Peccato avesse solamente 13 anni. Ecco, quello di poter criticare i partigiani è un grandissimo tabù. I partigiani devono essere sempre soltanto esaltati, dipinti come salvatori, come eroi. Invece le cose non stanno così. Certamente è giusto descrivere l'utilità del movimento partigiano, è giusto dare a loro alcuni meriti, ma senza dimenticare le nefandezze di cui si sono macchiati, sia loro sia ovviamente i fascisti. Però se non vogliamo essere faziosi non dobbiamo dimenticarci certi episodi. Durante il periodo fascista, alla fine del periodo fascista, dopo la sconfitta, i partigiani si sono macchiati di crimini del genere. Hanno per esempio stuprato donne, bambine, e credo che queste cose debbano essere raccontate, perché credo che a quella bambina, se potesse parlare, o ai genitori di quella bambina, non faccia piacere l'elogio incondizionato dei partigiani. non credo che ai loro genitori, ai suoi genitori o a parenti di vittime di questo tipo faccia piacere che sia completamente dimenticata la loro sofferenza e ciò che è avvenuto ai loro cari. I partigiani si sono macchiati anche di queste cose. Potrei anche citare altri episodi, per esempio la strage delle fosse ardiatine. Vi era la famosa legge che ogni tedesco ucciso avrebbe portato a dieci italiani uccisi. Bene, i partigiani uccisero a guerra finita 30 tedeschi e per ripicca i tedeschi uccisero 300 italiani. Strage tremenda, non ancora del tutto sanata. Storia relativamente recente. È chiaro che si sono macchiati di quel delitto i nazisti, però i partigiani potevano per esempio evitare di ammazzare quei deci tedeschi perché sapevano quello che dopo sarebbe successo. Quindi è chiaro che in un ambiente, in una situazione di guerra, dopo una dittatura, la tensione è sicuramente dalle stelle, ma non dobbiamo assolutamente dimenticare. Ovviamente queste cose non vanno strumentalizzate neanche in senso opposto per descrivere i partigiani come dei mostri. C'erano partigiani e partigiani e bisogna raccontare tutto. Chiaramente è storia relativamente recente, la verità più imparziale, meno scritta dai vincitori, verrà fuori probabilmente fra un altro secolo. Così come la verità, cioè che i fatti a cui noi assistiamo in questo presente verranno fuori fra due secoli. È sempre troppo presto per sapere la verità almeno totale per quanto riguarda fatti di cronaca, per quanto riguarda fatti politici, o almeno non dico tutti, ma buona parte di essi, soprattutto le cose più controverse. Tenetemi sempre a mente questa cosa. E anche per oggi le notizie terminano qui, ci vediamo domani alle ore 20 come ogni sera per una nuova puntata di DG Consapevole. Vi ricordo che se volete inviarmi dei servizi, dei vostri audio, vi aspetto su WhatsApp, pubblico in descrizione e sulla mia pagina Facebook. A domani alle ore 20.